Nella scrittura del Signore è detto essere misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco in beninità e fedeltà. Esodo 34 verso 6. Lento all'ira nell'ebraico significa letteralmente lungo di naso, ovvero che è paziente e longamine. Quando si è arrabbiati in ebraico è un'espressione detta il suo naso ardeva, il suo naso era arricciato. Potifar per esempio quando si adirò con Giuseppe è detto letteralmente la sua ira ardeva. Naso lungo dunque equivale ad essere lento all'ira. Metaforicamente per descrivere i sentimenti di Dio si prendono in prestito elementi umani proprio per farci capire a noi. L'ira di Dio dunque che è espressione del suo amore per il mondo ed essendo lui lento all'ira concede molto tempo per cambiare l'uomo, concede opportunità e richiami con pazienza. Il Signore che è paziente quindi è lento all'ira non vuole affatto la morte dell'empio ma piuttosto che questi ritorni indietro dalle sue vie malvagie, che questi appunto si converta. Perché Dio non vuole l'autodistruzione dell'uomo ma piuttosto Dio è mosso dal suo ardente desiderio di salvarci. E questo è stato dimostrato una volta e per tutte quando ha inviato, ha donato il suo unigenito figliuolo per la nostra salvezza. Chiunque crede in lui, quindi si affida a lui, fa spazio al suo grande amore, alla sua grazia nella nostra vita, è salvo. È entrato nel disegno benevolo del Padre, il quale è appunto misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco in benignità e fedeltà.